Onorevole Pini, qual è la posizione della Lega Nord in merito alla questione siria? La posizione è che assolutamente l'intervento armato è la cosa più sbagliata che si possa fare, anche perché bisogna sempre cercare in questi casi dove la situazione può deflagrare anche al di fuori dei confini, dove effettivamente si stanno verificando i problemi, bisogna sempre cercare la strada della diplomazia. Sembra che uno spiraglio ci sia, anche se onestamente ci sono tanti, troppi attori interessati affinché avvenga un conflitto. Un caos incredibile che adesso ha come risultato devastante quello di esporre i 1100 militari che abbiamo nel Libano, nel caso ci fosse un'escalation che portasse alla guerra, a una possibile, probabile, plausibile reazione da parte degli Hezbollah. Quindi ha messo a rischio la vita di 1100 persone, perché se ci sarà un intervento armato e non è assolutamente scongiurato, è chiaro che la posizione dell'Italia, anche se non intervenire direttamente, verrà vista come assolutamente allineata rispetto a questi volenterosi stati che a tutti i costi vogliono fare la guerra. Quindi noi oggi presentiamo una mozione dove chiediamo l'immediato ritiro delle truppe del Libano, perché non vogliamo poi voler piangere dei morti o voler mandare flotte e altre truppe per poter liberare poi questi nostri uomini. Ripeto, l'ETA ha fatto un casino su questa questione che passerà alla storia. Purtroppo, ripeto, i rischi sono veramente alti e devastanti. Tenete conto che tanto gli Stati Uniti quanto la Turchia, che comunque sono due paesi formalmente filointerventisti, o perlomeno così sembra, hanno ritirato i propri consiglieri diplomatici da questi territori, proprio dal Libano, proprio perché sanno che c'è il rischio che ci siano delle rappresaglie.